Ciao a tutti amici di Cristiano Ruiu TV, benvenuti a un nuovo appuntamento con il mio canale YouTube. Un appuntamento un po' particolare, inatteso, inaspettato, non programmato, che riguarda la notizia di pochi minuti fa riguardante lo stop delle attività agonistiche per quanto riguarda l'Inter, Ivi compresa, la partita che sarebbe dovuta disputare sabato contro il Sassuolo e il blocco delle convocazioni a tutti gli atleti che dovevano essere a disposizione per le nazionali. Faccio una premessa che mi sembra doverosa, anche se l'ho ripetuto più volte nei miei interventi, sia sui miei canali social, sia in diretta TV. È chiaro che il dramma che sta attraversando la vita di tutti noi, che sta influenzando in maniera senza precedenti la vita economica, sociale, politica e anche dello sport di tutto il mondo è un dramma senza paragoni. È chiaro che tutto il resto deve essere messo in secondo piano rispetto alla pandemia del Covid. Ma per quanto riguarda la parte sportiva, era stato stilato un protocollo all'inizio di questa stagione, insomma, vari protocolli, sia a livello internazionale, la FIFA, l'UEFA, le leghe di ogni singola federazione avevano stilato un protocollo e anche la Lega Calcio, con un'intesa tra i club per cui si sarebbe trovato il punto d'incontro nella richiesta della sospensione delle partite, dell'eventualità in cui ci fossero stati più di dieci casi contemporanei di Covid all'interno di uno stesso gruppo squadra, il famoso cluster superiore alle dieci unità. Bene, che cosa è accaduto? È accaduto che all'Inter, Inter che è capolista e che legittimamente, sottolino legittimamente, vincerà questo campionato con merito perché è la squadra più forte, con i giocatori migliori, quella costruita meglio, quella con l'allenatore più bravo, che ha anche un palmarès migliore degli altri, non a caso è anche il più pagato, insomma, con il miglior dirigente sportivo che è Beppe Marotta. E dico tutto questo, sapete, senza ironia, ma con la consapevolezza che sia davvero così e quindi l'Inter vincerà meritatamente questo campionato. Quindi nessuno vuole togliere i meriti sportivi all'Inter e nessuno vuole utilizzare il Covid come scusa polemica all'interno di questo video. Però il fatto che sia stata fermata l'attività agonistica dell'Inter e che quindi non si giochi la partita contro il Sassuolo, che beninteso, secondo me, l'Inter avrebbe vinto comunque con le assenze di Andanovic, De Vrij, Vessino e D'Ambrosio, ma che sia scattato lo stop alle attività agonistiche disposto dall'ATS di Milano. Secondo me, non dico che crea un precedente molto pericoloso perché purtroppo il precedente che mina alla regolarità di questo campionato c'è già stato e mi riferisco naturalmente al papocchio in verecondo accaduto con Juventus-Napoli, tra l'altro i cui effetti non si sono ancora consumati perché la partita non è stata ancora recuperata, però dopo il capitolo, che secondo me, e l'ho sempre valutato, disastroso per l'immagine e l'autorità delle istituzioni calcistiche sportive italiane, dal CONI alla federazione alla Lega Calcio, quello è stato un esempio di pessima organizzazione e di inesistente autorità, un esempio che si sta perpetuando. Purtroppo quello di Inter-Sassuolo è il secondo capitolo perché esattamente come l'avevamo detto per Juventus-Napoli non esisteva proprio che l'ASL della regione Campania in quel contesto bloccasse una partita e che le istituzioni sportive dovessero assoggettarsi a una decisione che in qualche modo violasse la famosa clausola compromissoria o comunque fosse ingerente nelle decisioni della giustizia sportiva, tant'è vero che in primo grado la giustizia sportiva aveva dato il 3-0 a tavolino a Napoli, salvo poi rimangiarsi la decisione e creare dunque un precedente molto grave, questo è il secondo caso. Naturalmente la giustizia sportiva, se si dovesse pronunciare, non potrebbe in questo caso dare il 3-0 a tavolino all'Inter ma dovrebbe assecondare le decisioni della TS di Milano, decisioni che però sono molto molto discutibili perché in questo anno ci sono stati tanti altri club che hanno avuto la contemporaneità di 2, 3, 4, 5, 6 casi di Covid all'interno del gruppo squadra e comunque le partite si sono giocate lo stesso sia in Serie A sia nelle serie inferiori e sicuramente questo non si può negare, è un vantaggio enorme che la TS di Milano, che non è un'istituzione sportiva ma arriva dall'alto, un vantaggio enorme che dà l'Inter che non giocherà questa partita con 4 giocatori fuori e che soprattutto avrà la possibilità di non rilasciare tutti i propri tesserati per le nazionali quindi l'Inter che già dal punto di vista atletico, fisico sta molto bene, in testa alla classifica ha i meccanismi perfettamente oliati avrà la possibilità di far allenare i suoi giocatori ad appiano gentile, sappiamo questo quanto sia importante per Antonio Conte e per i suoi metodi di allenamento, anche per la sua mentalità avrà la possibilità di lavorare con la squadra per due settimane ininterrotte alla Pinettina mentre tutti gli altri giocatori saranno in giro per il mondo con le rispettive nazionali con il rischio, oltre che di infortunarsi, di affaticarsi, ma questo fa parte dell'attività agonistica come normale che sia anche di contrarre naturalmente il Covid perché escono da quello che è il loro gruppo squadra ed entrano in altri gruppi squadra che sono quelli delle rispettive nazionali questo rischio l'Inter non ce l'avrà il tutto e salterà questa partita che poi sarà recuperata in un calendario molto soft quello dell'Inter con tanti buchi a disposizione visto che non partecipa più né alla Coppa Italia né alle Coppe Europee e dunque avrà la possibilità di recuperare con calma la partita contro il Sassuolo e avrà questo beneficio che nasce dalla positività di questi quattro giocatori ripeto, con il massimo rispetto per la positività di questi quattro giocatori a quella che dovrebbe essere una delle varianti del Covid-19 ma la stessa cosa è capitata a tante altre squadre e le partite si sono giocate lo stesso con le squadre in emergenza questo non toglie e non toglierà nessun merito alla vittoria del campionato dell'Inter però dobbiamo elencare dopo Juve-Napoli la partita dello scandalo per come sono maturate le decisioni e anche per il fatto che non si sia ancora recuperata e che addirittura le squadre abbiano deciso nonostante il parere contrario della Lega quando recuperarla il secondo caso è questo di Inter-Sassuolo adesso ho mosso un atto d'accusa nei confronti della TS di Milano che ha preso questa decisione devo però anche dire che dopo il precedente di quello che è accaduto con Juventus-Napoli e questo l'abbiamo sempre detto, purtroppo c'è stato il liberi tutti e dunque da adesso in poi tutte le Asle anche per le squadre pensate che magari hanno una partita decisiva per la retrocessione allora magari avranno 3-4 giocatori con il Covid positivi al tampone allora le Asle di riferimento potranno richiedere il blocco delle attività agonistiche e quindi il conseguente remiglio della partita pensate a che cosa andiamo incontro da adesso fino a fine stagione se le istituzioni pubbliche, sanitarie di tutto il paese si mettono a guardare gli interessi specifici dei club esattamente come è accaduto all'Asle di Napoli esattamente come è accaduto alla TS di Milano dunque un episodio secondo me molto grave e molto triste che ribadisco ancora una volta non c'entra nulla con l'Inter e con l'ambito sportivo però l'Inter ne beneficia in maniera chiara e purtroppo quello che avrebbe potuto essere un campionato splendido perché è molto combattuto, molto avvincente, molto spettacolare con grande irregolarità e grande spirito di sano agonismo da parte dei club vede il secondo episodio gravissimo di campionato non voglio dire falsato ma pesantemente condizionato da una scelta che non arriva da un'istituzione sportiva ma che viene imposta dall'alto alle istituzioni sportive che non sanno reagire e dunque credo che questo rinvio di Inter Sassuolo questo blocco delle attività agonistiche meglio per quanto riguarda l'Inter in questa settimana sia l'ennesima pagina triste di questo campionato e purtroppo da questo punto di vista non c'entra nulla il Covid ma c'entra l'inadeguatezza delle istituzioni sportive e non dell'Italia un saluto a tutti da Cristiano Luio TV